Questa cultura dell'austerity che sta continuando a fare del male all'Europa e diciamo che il modello americano di Obama ha funzionato, il modello dell'austerity dell'Europa non ha funzionato. Noi diciamo questo, tuttavia siccome i miei predecessori, i nostri leader dei governi precedenti hanno firmato delle carte che sono vincolanti e impegnative, la reputazione dell'Italia è per noi un punto importante, quindi continua a scendere il deficit, continua ad essere più forte l'attenzione ai conti da parte dell'Italia, ma contemporaneamente cerchiamo di ritagliarci tutti quegli spazi per fare misure di investimento sull'economia a partire dalla grande misura dell'industria 4.0 che Carlo Carenda ha espresso e spiegato molto bene nel corso di queste settimane. Grazie.